Per evitare il furto dell'auto, non lasciare mai aperte le portiere, anche se ti allontani solo per pochi passi. Inserisci l'antifurto ed evita di lasciare incostruiti o in vista all'interno dell'abitacolo oggetti di valore che possono attirare l'attenzione. Chiudi le portiere e finestrini dell'auto quando sei fermo, anche nelle brevi soste, come ad esempio al semáforo. Controlla manualmente che le portiere dell'auto siano effettivamente chiuse, poiché vi sono attrezzature che consentono di intercettare le frequenze dei telecomandi e bloccare la chiusura automatica delle portiere. Marcheggia, se possibile, l'auto in luoghi illuminati o vicini a telecamera. Anche la bici è un bene appetibile per i malintenzionati. Assicurala sempre con la catena solida. Quando sei in sella, assicura comunque la borsa dal cestello, bloccandola con la tracolla lunga. Non portarla mai a spalla. Mai, mai, mai lasciare le chiavi dell'auto inserite nel quadro di accensione, anche se l'auto è nel garage di casa o durante i suoi strumenti. non affidarle a posteggiatori non autorizzati. Grazie per la visione!